Scusate, lo so che non è educazione, è arrivato adesso, ero lì dietro, è arrivato un messaggio, mi ha mandato tu? Ho mandato io. Ciao, come stai? Cosa stai facendo di bello? Scusa, per questo banalità, adesso eri lì che mandavi, non è una banalità. Scusa, non è una banalità, perché dietro c'è tutto un mondo. Dietro ciò come stai, che fine faccio? Cioè, dietro di lei c'è un mondo. Adesso vi spiego, io dentro il telefono ho messo un software per capire cosa c'è dietro un messaggio di una donna. Cioè, c'è un software che traduce i messaggi. Perché il vostro cervellino... Non ci arriva, non ci arriva, però diciamo che la tecnologia ci aiuta in questo campo. Insomma, hanno speso milioni per tradurre i messaggi dallo spazio degli alieni, non ci sono riusciti. Forse ce la facciamo con le donne. Traduzione del tuo messaggio, eccola qua. Mi sono appena lasciata col fidanzato e tu eri alla lettera A della mia rubrica. Però se non rispondi... Però... Aspettate, aspettate. Però... Però se non rispondi entro 30 secondi, passo alla lettera B. Aspettate. 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 Allarea B., Aspettate. Aspettate. Grazie a tutti.